e bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video che è il programmer che vi parlo oggi andiamo, siamo su slitter.io per fare lo speciale e si insegna ciò, sarebbe bello, sei iscritti ovviamente vi faccio lo speciale perchè è un traguardo grandissimo per me che ho appena iniziato la carriera da youtuber e adesso ci scegliamo una skin allora, ci scegliamo ovviamente questa dov'è? questa vediamo se possiamo uccidere guarda questo come si chiama sto qua? come si chiama? ma c'è la mia massa non gli da niente vediamo adesso che possiamo far ma fa un bagno tutti contro di me guardate uffi non mi vuole evitare un pochino di massa arrivate allo speed ragazzi vi do un pochino, vi suggerisco un pochino di tattiche di tattiche per essere fortissime slitterio tattica numero uno per stare vicini ai più grandi e non farsi ovviamente avnazzare tattica numero due non usarlo speed perchè? guardate la mia massa adesso ho 125 io uso lo speed 101 94 cos'è oh ma questa è la fine che muoio ok c'è uno che è il terzo che si chiama john cena john cena secondo non ci credo guarda questo qua sta diventando malato si ma sono tutti malati raga no è muoio stronzo ok raga scusate se ho messo in pausa però ho dovuto anche togliere la cover dal tablet mi sta bruciando in mano il tablet eh ve lo dico ma stronzo secondo te mi frega comunque va bene vediamo che fare dai cacchio no stai usando lo speed mi conosci se usi lo speed ti ammazzo devo usarlo per sto qua lo speed ma non per questo io mi ricordo di lasciare un like e un commento ditemi se la serie di slitterio la volete continuare o volete che io la tolga cioè che non la faccia più e noi ci vediamo un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.